Ma sai a volte che cosa penso? Che io e te siamo un po' come... Romè e Giulietta. A proposito, hai detto a tuo padre che stai per sposare una ragazza del Sud? Te invece gli hai detto che stai per sposare un po' l'Antonio. Ma quale Sud? Io non voglio andare al Sud, dai, per cortesia. Tengo anche il televisore sulla parete Nord. Amore, mandiamo la laurea della nostra bambina al Nord, eh? Non mi fa pensare, ma come sei venuta in capa a che sei andare a studiare al Nord? Che pirla, che pirla! E adesso quel napoletano lì diventa il mio consuocero! Benvenuti a San Valentino a mare! Renzo! Cosa fai? Ma ora! Fatti che cosa? Terroni è perdita d'occhio! E chi si organizzerà? Tutti il matrimonio? Gegè! Zuccherino, eh? Guarda l'effetto che fai il mio cuore. Una palla da piardo! Ma che t'hanno fregato il numero! Cosa è cosa? Senti, Gegè, ma con tutti questi matrimoni non si può trovare una sposina per frate? Spettinami tutta! Ma io se vuoi te ripetino pure! Se può fa, se può fa! Passami il commento che lo saluta! Non so parlare milanese! Qua è testina su Bubi! Commentami, mi consenta! Ma state un po' umano! Fermami, fermami, fermami! Madrona da bada! Eh la madonna, ma che pesci sono questi qui, piraglia! Lasci due! E te chi sei? Tiro la pizza mia! Ma lei non voleva un'orecchietta! Matrimonio al sud! Al cinema! Avettate, ma che! Vorrei un minuto di silenzio, questa è religione! Voglio una bella cotoletta! Ma voi lo sapevate che il costo delle Aston Martin andate distrutte nel nuovo capitolo di James Bond, Spectre, ammonterebbe a circa 39 milioni di dollari? Che pare il compenso di Daniel Craig? Wow! Cliccate qui accanto per altri video e... No, scusate! Scusate, non ce la faccio! 39 milioni! 39 milioni di dollari! Ok! Eh, cliccate qui accanto, intanto io... Sto male! 39 milioni! Grazie, ciao! Ciao, ciao!